Da Milano alla provincia di Bergamo andiamo a Ponteranica dove si sono dati appuntamento molti esponenti del carroccio orobico. Sentiamo il senatore Giacomo Stucchi. Giacomo Stucchi, come sempre in giro per tutta la padaria, in questo caso a vedere il gazebo dove si fa una raccolta firme importante. Sì, vedere il gazebo, vedere i nostri militanti sostenitori all'opera, ma soprattutto vedere tanta gente che sta firmando. Questa mattina giovani, anziani, insomma un po' tutta la gente del nord qui a Bergamo ma non solo nella nostra provincia si sta mobilitando per dire no a un certo tipo di proposte del governo che mirano a rendere facile l'ingresso sul nostro territorio di soggetti che con noi hanno poco a che spartire per quanto riguarda il luogo d'origine e soprattutto di cui in questo momento di crisi non serve un contributo in termini lavorativi. Ma la cosa più rilevante è per dire no a un certo tipo di lassismo nei controlli per quanto riguarda gli immigrati clandestini già presenti sul territorio. Noi riteniamo che la gente abbia compreso la nostra posizione e che le nostre proposte che stiamo facendo sottoscrivere ai cittadini siano proposte di buonsenso, proposte che tracciano una linea, se vogliamo, rigida, se vogliamo anche dura, ma una linea che è rispettosa di quelle che sono le aspettative della nostra gente. Fatti di cronaca molto limite come quello di Milano sicuramente aiutano comunque a sensibilizzare l'attenzione su un problema che c'è. Sì, la tragedia di Milano ci richiama l'importanza del controllo del territorio, della tutela dell'incolumità dei nostri cittadini, del controllo delle frontiere e del fatto che bisogna essere rigidi e giusti nell'applicare una politica sull'immigrazione soprattutto nei confronti di coloro come nel caso di Cabobo che avevano già dato segni di poca attenzione, poco rispetto alla legalità partecipando a rivolte e quindi assumendo gli atteggiamenti contro l'Egem. Non è possibile tollerare questo tipo di lassismo, tollerare con il finto bonismo diciamo così queste azioni che vanno contro l'interesse di tutti, bisogna combatterle.